Il mare è marrone, io vorrei, ma non riesco a moltiplicare i pesci, sono tutti morti. Signor regista, non mi sento tanto bene, mi sto sentendo male. Sì. Grazie a tutti. Alberto, devo tornarmela a casa. Mia suocera non sta bene, deve ricoverarsi. Ma che me ne fotta a me di tua suocera?